Il Vangelo ci dice che Gesù fu trasfigurato davanti ai suoi discepoli. L'evangelista Matteo usa questo verbo passivo, non dice che si trasfigurò, ma che fu trasfigurato, ed è infatti il Padre a compiere la trasfigurazione del Figlio. Il Padre vuole rivelare agli apostoli che Gesù non è un profeta qualunque, ma è il suo Figlio, come diciamo nel credo Dio da Dio, luce da luce. La trasfigurazione è un'esperienza mistica che avviene mentre si è ritirato in preghiera su un alto monte. Vuol dire che non è un'esperienza che possiamo fare mentre siamo immersi nel caos del mondo, dove il rumore, negli intrattenimenti, nei mezzi di comunicazione, siamo soffocati dalle paure, dalle ambizioni. Serve il distacco da questo mondo, molto concreto, e allo stesso tempo pieno di inganni ed illusioni, per passare ad una conoscenza spirituale profonda, illuminata della nostra vita. La trasfigurazione riguarda lo sguardo, è una visione di luce, è la capacità di guardare ogni cosa dalla prospettiva dell'amore eterno di Dio. E così riconosciamo cosa sia veramente il bene e cosa sia il nulla, e comprendiamo in che direzione stiamo camminando. La trasfigurazione riguarda anche l'ascolto. «Questi è il mio Figlio amato? Ascoltatelo!» Ascoltare la parola di Dio, proprio come stiamo facendo in questo momento, perché la nostra ragione, come pure l'immaginazione, i sentimenti, potrebbero abbagliarci e portarci fuori strada. Ma se ascoltiamo Gesù, rimaniamo ancorati nella sapienza di Dio, e allora sì che stiamo costruendo la nostra casa sulla roccia. Dio conceda a tutti noi istanti di trasfigurazione, di visione e di ascolto della verità, per poter illuminare anche i momenti più oscuri della vita.